buongiorno cazugno cazugno buona domenica a tutti voi scelto noi oggi stiamo in un ambosto no vabbè voi tra poco vedrete dove stiamo andando perché oggi vi terrò aggiornati tutti i nostri spostamenti scelto in dando io guardate che ore sono guardate sono le dodici meno venti piove che aspetto con deca a meno derece e mezza scelto sta arrivando perché ora innamo a ghiri innamo a ghiri non posto oggi ingollati ai nostri canali che quello che vedrete oggi no vabbè vediamo dov'è il conte scelto non lo so forse è passato non lo so c'è avita stamattina da stamattina che ti aspetta che carino buongiorno che carino guardate il conte stamattina che carino ma che cosa stai vedendo fai di quante ore sono io io ho detto ai tuoi follower ai tuoi che stiamo andando in un posto e devi sempre svelare il segreto no non l'ho svelato dov'è però ho detto che è un posto anomalo buona domenica buon pranzo buon tutto no di chi che devono seguire i nostri canali oggi perché oggi è poco particolare hai un nato scelto che porta chiave che abbiamo regalato scelto vabbè a dopo ragazzi a dopo che io faccio aiutare perché sennò usciamo alle 3 oggi no vabbè grazie a tutti